2 su 2 in trasferta Latina e Viterbo, Pescara a caccia delle trisse di vittorie esterne consecutive. Di fronte il Foggia, lo Zaccheria col nazionale Plizzari, niente Placetti invece da parte della Federazione per l'Under 18 delle Monache. In difesa Bobben al fianco di Brosco, in grosso, ripartirà dalla panchina. Il probabile 11, Plizzari tre pali. In difesa Cancellotti, Brosco, Bobben e Milani. A centrocampo è in attacco assai verosimile la conferma degli attori dell'ultima sfida. In mediana Giabuà, Palmiero e Mora, davanti Cuppone e Colai, a supporto di Lescano. Tra i convocati la novità è Luca Crecco dopo il grave infortunio alla rotola. Così il tecnico Alberto Colombo. Sappiamo che magari il Foggia ha qualche difficoltà, ma ha dei punti di forza da non sottovalutare. Dobbiamo mettere in campo la giusta personalità in un ambiente tra i più caldi, credo, della categoria. Vorremmo creare anche una manovra ancora più fluida e addirittura, soprattutto, più efficace nella pericolosità. Foggia in ripresa. Quattro punti nelle ultime due gare, ma ancora alla ricerca di una sua precisa identità, di un equilibrio tra le due fasi, soprattutto quando perde palla. Purtuttavia potenziale offensivo di spessore. Sul piano tattico il Pescara dovrà essere abile a ripartire, ma senza chiudersi. Può essere la chiave, tenendo il più lontano possibile gli attaccanti di casa dalla propria area di rigore. Out il solo Rizzo, sistema di gioco 4-2-3-1, squadra quasi totalmente rinnovata. Nobile tra i pali, Terzini, Leo e Costa. Al centro della difesa Malomo e Labruzzese di Giulianova, capitano del Foggia, cresciuto nelle giovanili bianchezzurre, Davide Di Pasquale. A metà campo il tandem Oger di Noia. Schienetti tra le linee, in attacco per alta Vutai e l'ex Eugenio Dursi. Schienetti, bestia nera, 4 gol tutti con l'entella nelle ultime 5 partite. Il tecnico Roberto Boscaglia. La vittoria è sempre importante, quindi il fatto che si possa battere più o meno il Pescara a noi ce ne frega poco. Nel senso che noi dobbiamo vincere, ma le insidie ci sono perché è una squadra forte, una squadra organizzata per fare un grande campionato. E' naturale che sia una partita complicata, ma io penso che la stessa cosa la stiano pensando anche loro. Tanti precedenti allo Zaccheria, 15 successi del Foggia, 7 pareggi e 3 le vittorie del Pescara. La prima campionato di Serie C, 1958-59. Match winner Ferrari nelle immagini sul neutro di Napoli. Il 24 giugno 1979, ultima giornata di B, il Pescara di Angelillo si impone 2-1 grazie gol di Mimmo Di Michele e di Bruno Nobili, che su punizione sorprende Benevelli nel mezzo il momentaneo pareggio di Barbieri. Messe di gol invece nel 1991, una gara pazzesca 3-3 sul neutro di Bari. Casale fulmina con un gran sinistro Mannini, pareggio di Bivi su rigore, quindi 1-2 del Foggia di Zeman. Prima Baiano, poi Rambaudi, con un piede in C il Pescara di Galeone, trova la forza di reagire. Martorella, geniale colpo di tacco di Bivi e 2-3 di Fioretti, quindi il definitivo pari ancora di Eddie Bivi su assist di Fioretti. Allo Zaccheria, storia recente, serie B gennaio 2018, il blitz firmato da Leonardo Mancuso al termine di una tipica azione zemaniana. A proposito, Foggia Pescara nel segno per tanti motivi del boemo, ma Colombo ammette. Non essendoci Zeman in panchina, siano lontane entrambe da questo modo, perché alla fine è unico, non è replicabile. Abbiamo tutti grandissimo rispetto per il maestro, per Zeman, però ognuno credo faccia il proprio percorso. Speriamo di vedere una bella partita, ma con due squadre sicuramente che cercheranno di giocare, ma Zeman è Zeman e rimane Zeman.